vai marcello ma solo quello che sta fatto no è diverso è più veloce un conto è farlo così accelera e quanto farlo così e quanto farlo così ma basta la cosa cambia vabbè voglio sentirla anch'io ma compagno se fai vedere se fai con me se fai con me se fai con me ma che Marcello che è stu, eh è vero, è vero per un fotografo a Marcello oh sei la tigre vai picchia picchia ritmo non c'è ancora la batteria non c'è ancora la batteria aspetta ti aiuto Marcello non c'è ancora la batteria non c'è ancora la batteria non c'è ancora la batteria aspetta no ahahah lo mettiamo su youtube o no? non c'è ancora su youtube bocco trrrr è più da fare trrrr era fuori tempo ragazzi chi che è Lionel Etto italiano non c'è Lionel Etto chi è Lionel Etto Lionel Etto Lionel Etto Lionel Etto Lionel Etto